La regina Elisabeth II usa il suo viaggio annuale a Balmoral come parte integrante del mantenimento della sua sanità mentale che un esperto reale ha affermato ed è improbabile che vedrà suo nipote alla tenuta quest'estate. Secondo l'esperto reale e commentatore Duncan Larcomb, il ritiro in Scozia è il luogo in cui sua maestà può dare il via alla corona. Secondo l'esperto, Balmoral è un luogo importante dove sua maestà può godersi la vita all'aria aperta e stare con la sua famiglia. Dopo l'annuncio delle memorie e dei commenti del principe Harry sullo studio. Larcomba ha affermato che qualsiasi invito al principe è stato effettivamente annullato. L signor Larcomba ha detto ok. Rivista. Balmoral gioca un ruolo chiave nella sanità mentale della regina. È dove può dare il via alla corona ed essere la madre, la nonna e la bisnonna che è. Larcomba ha aggiunto. Se non fosse stato per il covid e tutti i drammi che sono accaduti con Harry e Meghan negli ultimi mesi, sarebbero stati sicuramente invitati a Balmoral per un incontro di famiglia per vedere la regina e farla riunire con loro figlio Archie e incontrare Lilibet ma mentre nessuno dei reali lo direbbe pubblicamente. Attraverso le sue azioni e parole Harry ha effettivamente annullato il suo invito. Al momento, non è stato confermato se Harry abbia ricevuto un invito dalla regina o se abbia cancellato qualsiasi possibile viaggio di ritorno nel Regno Unito. Gli attacchi di Meghan Markle e Harry sono stati etichettati come preoccupanti per la famiglia reale, poiché un esperto reale ha affermato che sono divenuti canaglia. Harry ha parlato di sentirsi intrappolato come un reale, mentre Meghan ha affermato di non aver ricevuto aiuto quando si è sentita suicida. Harry ha continuato a rimproverare suo padre Charlie in ulteriori interviste, dicendo che voleva rompere il ciclo della genitorialità reale. Ora l'esperto reale Richard Fitzwilliams ha condiviso la sua preoccupazione che il duca possa essere totalmente imprevedibile con il suo prossimo libro di memorie e usarlo come leva contro i reali. Ha detto a Tessan Online. La sua semplice esistenza è una forma di leva da usare potenzialmente contro la famiglia reale in qualunque cosa accada.